ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di the battle cats visto che l'ultimo video mi è piaciuto tanto registrarlo e sembra che vi è piaciuto pure a voi ho deciso di fare un secondo episodio e già vabbè sì ovvio sarà una serie che andrà più dei cento episodi tipo ma vabbè comunque 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 allora direi di iniziare allora eravamo rimasti al giappone sì esatto però non eravamo abbastanza potenti quindi tra l'altro il consiglio del gattino sia affamato si folle in effetti un bel consiglio direi di potenziare no non posso vabbè 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 volevo potenziare quello però teoricamente io qualche frisket tra l'altro i carti speciali cosa c'è sì il gatto ninja vai perché non va no c'ho 30 frisket vabbè vabbè e niente raga e niente pensavo di averne 50 ce ne ho 30 vabbè allora riproviamo ad attaccare il giappone ma stavolta blocco oggetti e mettiamo lo speed proviamo allora inizia la battaglia perfetta ok siamo assentati di sangue di cani oggi e di serpenti naturalmente mettiamo subito questo livello 40 ok perfetto di più di più di più più gatti più gatti oh cavolo sì perfetto 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 tra poco dovrebbe arrivare il boss quindi stiamo attenti il boss è veramente forte aspettiamo il 400 così metto la nostra unità più forte vai 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 ok metto il gatto slender io lo chiamo dai 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 sì sì guarda quanto è forte vai ci diamo tutti tutti i cani i cani via giappone via finalmente per quanto tu mi piaci giappone devi morire adesso anche se il giappone è bello mi dispiace vai 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 un altro gatto gigante deve mettere tantissimi gatti attaccare attaccate il rino c'era un terreno c'era un problema vai 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 ok aspettiamo i 200 mettiamo un gatto ninja a questo punto gatto ascia volevo dire dai 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 ce la puoi fare eh non è così forte come pensavo il gatto gigante guarda che pizze si si l'abbiamo ucciso l'abbiamo ucciso perfetto perfettissimo perfetto ce l'abbiamo fatto raga ok 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 vediamo 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 si 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 distruggiamo tutto addio giappone mi dispiace te mi piace niente tra l'altro sto speed up in realtà è utile cioè è una specie di cosa che fa scorrere il tempo più veloce la partita più veloce preferisco senza ma quando succede questo è meglio guardate guardate abbiamo vinto vai vai è così che si vince è così che si vince oh abbiamo pure oh nice nice cercatore di gatti nuovo livello evento miau capsule grado oh mio dio oh mio dio oh mio dio e vabbè raga mi dispiace ma ci abbiamo troppe cose adesso e vabbè japan cleared eh si il giappone era difficile 3000 xp anche ok perfetto perfetto cosa è successo ah ok c'era lo schermo tipo tutto nero non capivo cosa succedeva torna indietro ok va bene tra l'altro via forse no qual'era la cosa per ispezionare i gatti non ho capito sinceramente ah ho capito che ti dice cosa fanno perfetto perfetto bene ragazzi apriamo qualche miau capsula possiamo aprirne due quindi è uscita una nuova versione no devo aggiornare devo aggiornare battle cats dai che pizza e vabbè raga a sto punto faccio un taglio e ci vediamo appena l'ho aggiornato a dopo bene ragazzi oh mio dio ho urlato mammissimo si è aggiornato il gioco che cosa è comparso verranno scaricati i dati oh mio dio vabbè naturalmente faccio un taglio anche su sta cosa però se dura tanto vediamo se dura poco non faccio un taglio se dura tanto invece faccio un bel taglietto ok no niente non faccio il taglio visto che è durato poco perfetto perfetto the battle cats ascesa di battle cats supera il livello greco ma lo giusto ah giusto che cacchio è successo è crashato il gioco ok va bene stanno succedendo cose strane ma lasciate stare è soltanto crashato il gioco niente di che ok aspettiamo però dai sbrigati 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 ok beatboxing meta rock salta questa animazione l'abbiamo vista 60 volte via via basta perché non mi fa più saltare ok va bene ah che pizze oggi il gioco si bugga sempre c'è così c'è così di nuovo che pizze oggi ha smesso di buggarsi il gioco si o no modalità streaming ok ok perfetto mamma mia che c'ha vabbè forse quel nuovo aggiornamento è successo qualcosa no non credo semplicemente il mio computer che è un rottame però vabbè salta ok gioca 7th anniversary cosa vuol dire supera il livello greco uh devo superare il livello greco cosa succede oh che figo oh veramente cos'è cos'è questo ok va bene va bene va bene mi piace mi piace grande battle cats però a parte il lag bestiale ragazzi perfetto cosa cosa succede raga 77 frischette eh cosa succede mo perchè c'è ok no mi dispiace ma 777 frischette vabbè mi dispiace ma io non shoppo nei videogiochi ma cosa c'è ancora ancora schermo oddio ma quante cose hanno messo ho capito che è il ok mamma mia ok check special mission ok missioni intanto riscatto perchè ho superato supera l'impero dei gatti capitolo 1 eh difficile manco sull'account del telefono che vi ho fatto vedere nella short ci sono uscito ma che cosa c'è nel menu qui di nuovo mi ha odaglie ah ok ho capito costruttore di imperi aspetta un attimo ma io ce l'ho anche qui ok va bene ragazzi ok sto avendo un po' di dubbi club ufficiali ah raga dopo vado sull'account del telefono quello che ho sempre usato per capire perchè c'è club ufficiali so cos'è cioè in realtà no però vabbè cos'è il club ufficiale ah ok ok ho capito è tipo una specie di carta di identità non so cosa dire va bene ok oh mio dio c'è altro la guida felina ok va bene c'è questa cosa cos'è la guida oh mio dio è vero adesso mi ricordo ok questa cosa l'ho vista anche ok 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 questi cosi ogni volta che ci clicchi ogni volta che tieni un nuovo gatto clicchi su questi e ti danno dei free scat gratuiti oh mio dio che figata allora no non voglio andare subito per l'australia ma voglio bensì potenziare un po' qualche gatto vi come title di questo video spoiler vabbè l'avete già letto prova due volte vai vediamo cos'è cos'è che mi capita oh no va bene va bene dai ci sta ci sta ritmo impiegato va bene sì un gatto il gatto uccello raga ce l'avevo sul telefono ed è abbastanza forte non troppo ma neanche ok va bene prima di togliere tutto dalla rimessa perché mi serve tutto facciamo ok va bene è tipo la parte anime del gioco vediamo vediamo oh sì il gatto mela questo non ce l'ho manco sul telefono sulla account del telefono che vi ho fatto vedere nella short che figo me l'ha gatto non ce l'ho neanche nell'account del telefono cioè poi non era proprio una short era una specie di short volevo fare una short ma mi sono dimenticato che durava oh mio dio sto trovando solo cose che non ho neanche nell'account del telefono ok va bene va bene sì ma perché la rimessa ferina è un frigo vabbè si usa tutto si usa tutto menù organizza ok cos'è il menù organizza mi chiedo ah equipaggio non organizza cosa si fa ah sì sì ok ho capito ho capito ho capito sì 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 ok ho capito ho capito dopo quando praticamente uno slot si riempie di gatti sì sì ho capito ho capito ho capito ho capito potenziamo subito il gatto uccello questo gatto e questo gatto andiamo qui no non posso ah no ok c'è già pensavo che non potevo ottenerli ma perché non c'ho rispi poi posso anche sbloccare questo gatto il gatto ninja perfetto dai per poco non me lo potenziavo che pizze aspetta aspetta missioni riscatta no era un frischetto che pizze vabbè niente xp da riscattare no non esistono gli xp eh vabbè 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 si affamato si folli i soliti consigli del nostro generale ok intanto continuiamo a ricevere una migliaia di frischetto praticamente vai vai che figo il gatto ninja facciamo così facciamo così facciamo così facciamo così ok 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 ecco qua ecco qua finalmente ok il gatto mela oh mio dio sti due gatti sti due gatti saranno tipo ok va bene cosa ho visto e questi invece sono i gatti pattini ok 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 oh grado giocatore 37 ci sta ok va bene dato che non posso potenziare niente direi di equipaggiarmi i gattini per ben ben per ben ben no gatto ascia il gatto uccello però direi di mettere quelli meno costosi in alto quindi guardiamo quelli sotto i 200 dai nei super rari ok non ce n'è nessuno gatti speciali te sei 200 ok va bene 200 va bene gatti super rari ok non ce n'è nessuno perfetto allora guardiamo quelli da 300 ok vediamo quelli da 300 sicuro non è 300 questo 200 l'ho già messo super rari no niente 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 sociali va bene va bene va bene non ci sono anche i gatti rari vabbè a sto punto guardiamo sotto i 400 sotto i 400 però c'è già il gatto slender quindi vabbè non è che siano tanto com'è che si chiama gatto alto mica gatto slender pure io però vabbè ok va bene va bene va bene quelli con 400 li metto io praticamente li organizzo in base al costo ok mo nei super rari c'è questo qua che lo mettiamo c'è questo qua lo mettiamo così ok perfetto e mo credo che abbiamo già fatto praticamente i gatti super rari facciamo e mettiamo i gatti pattinatori come ultimi spero che in questo video non si sente come l'altra volta il gatto tipo l'audio triplo qualcosa di strano perché mi sta dando fastidio questa cosa non so come risolverla quindi capite che è ok non sembra che si sente almeno spero allora torniamo indietro torniamo indietro e adesso ci abbiamo la nostra armata bene allora gattino io ho tanta fame quindi sono già folle e oggi direi di conquistare un altro bel paesino e poi finisce il video ovvero l'Australia mi dispiace so che stai bruciando però dobbiamo espandere il nostro impero scusa scusa cambia unità non puoi spassare ah si lo so lo so si si ok però per me è più facile così che bello giocare con bluestacks da pc è fighissimo perché adesso costa 50 il coso non 40 vabbè stiamo vai 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 oh caccio è vicinissimo il coso tra l'altro che bello il koala che c'è lì sopra va bene ricorda tipo io che abbraccio il mio nuovo mouse se non avete visto il video dell'unboxing andatela a guardare mi raccomando facciamo un bel laser così avanzano di più mettiamo il nostro nuovo gatto ninja è velocissimo cavolo ah giusto io ho la speed dopo di che si dai mettiamo questo poi potenzio perché voglio raggiungere i soldi per fare il gatto mela e provarlo visto che non l'ho mai provato insieme a quello c'è no aspetta non distruggete la torre vi prego non voglio che distruggano subito la torre vai spiegati vediamo vediamo come attacca vediamo oh mio dio un attacco fighissimo posso dirlo che è un attacco bello molto anzi ok potenziamo 7 e mettiamo altri gatti così che bello oh mio dio no aspettate non distruggete voglio vedere come attacca anche questo gatto vediamo sono curioso come attacca oh mio dio è bellissimo l'attacco che fa ok ok sto rimanendo strabiliato poi lo danza di vittoria cos'è il tesoro ah ok i tesori anche nell'altro accanto non ho ancora capito come funzionano bene usa un gatto cpu però ok ok va bene va bene va bene va bene ah giusto ti fa usare usare la formazione usare ok andiamo nel singapore oppure terminiamo il video no dai direi di terminare il video perché sta durando un bel po 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 e quindi ragazzi vabbè noi ci vediamo in un prossimo video ricordatevi le parole che dice il nostro gatto saggio soprattutto il gatto soprattutto la parola che tutti noi abbiamo nel cuore ovvero si affamato si folle mi raccomando ragazzi ricordatevi queste parole perché potrebbero tornarvi utile se volete se volete fare un nuovo impero con i gatti mi raccomando vi lascio il link in descrizione del download del coso cioè del eh a parte io strano vabbè vi lascio il download dell'app se volete downloadarlo perché non so se nello scorso video ve l'ho downloadato e a parte questo bellissimo gattino il nostro generale che ci dà tanti bellissimi consigli guardate 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 lui è il gatto saggio lo chiamiamo noi è il miglior gatto ed è molto intelligente alla scuola dei gatti per conquistare gli imperi lui faceva proprio la materia gattese capito cioè era molto bravo lui studiava molto potenzialmente troppo bravo lui è il migliore infatti sa tutti i tipi di consigli comunque ragazzi vabbè a parte gli scarci noi ci vediamo in un prossimo video lasciate like iscrivetevi se volete continuare a vedere questa bellissima schermata ah bene ok l'abbiamo sbloccato questa bellissima schermata e questi bellissimi gattini che ci sono qui vedete vedete la posta c'è pure la posta guardate la posta mi domanda cosa c'è nella posta vabbè comunque ragazzi io vi lascio io vi lascio qui ci vediamo crashata la registrazione appena è comunque io ti devo dire una cos'è ovvero adios adios che